...che vanno aperte... Prego! Mi hanno messo anche questa cosa davanti, così non ti puoi neanche attaccare con il mio! Ma no! Adesso io faccio il trucco qui... Ah, eccolo! Caaah! Penso che questo buffettino si metterà in te! La pere! Ah, che ti spiega come la fai! Prendi in mezzo! Dai! Quando di cadere non cade, non cade, no! Ah, questo tipo fa una dolce! Ma tu sei! Sembrano dei maniaggi per la parte del secco! Ok ragazzi, questo è il caschetto! L'allargo al massimo e io copro questa rotella! Ciao ragazzi! Ciao! Una volta messo in testa, lo stringete e ve lo regolate questo, ok? Grazie! Prego! 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 Tu, 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 tu che è il saccario! Tu, tu che è il saccario! bak! Non c'è il sacco? Ci sonoanti piacere! Prego! Non c'è takENE! Non c'è! Prego! Tu, tu, tu... Stai... ancora